Promoball Sanitas trova una sconfitta per 1-3 nel recupero di martedì 18 dicembre 2018, valida per la decima giornata del campionato di Serie C FIPAF Lombardia in trasferta contro la palla a volo rivalta sul Mincio. Il primo set è piuttosto combattuto, i molti errori in battuta delle avversarie e la giusta grinta messa in campo da parte della Promoball danno il vento in pop alle ragazze fleresi che si aggiudicano il set senza troppe difficoltà con il punteggio di 18-25. Il vento cambia però nel secondo set quando una partenza sottotono da parte delle fleresi permette alla rivalta di allungare sin da subito distaccandosi dalle avversarie. La Promoball Sanitas riesce a mettere a segno qualche punto e sul 17-15 entra Di Giulio in coppia con Gasparini al palleggio su Papa e Giacomini. Sul 22-17 però ripristinano la formazione di partenza che però non riesce a cambiare la sorte del secondo set che finisce 25-18 per le padrone di casa. Il terzo set è la fotocopia del secondo con dei parziali duri per la Promoball con un 6-0 e poi un 11-5 al timeout le fleresi non riescono ad ingranare e si perdono in errori di attenzione spesso velleitari. Sul 17-6 a set già compromesso le Bresciane provano a cambiare il passo della partita con un doppio cambio ma non riescono a smuovere la situazione che si conclude sostanzialmente senza altri grandi cambiamenti sul 25-12. Nel quarto set la Promoball parte con una Di Giulio al palleggio ma anche questa variazione non sembra sbloccare le ragazze che subiscono molto in ricezione e non riescono a metter giù palla portandosi sul risultato di 10-2 per le mantovane. Le fleresi non riescono ad entrare in partita, commentano troppi errori e si lasciano distaccare dalle avversarie che approfittandosene chiudono il set per 25-16, aggiudicandosi definitivamente la gara valida per la decima giornata del campionato di serie C-FIPA-V Lombardia.